Giovanna Di Domenico, verrai a suonare stasera a Positano, è una delle tue prime esibizioni penso dopo il Covid, parlaci un po' di te, che cosa suoni, che cosa hai fatto finora e come ti senti a stare qui a Positano? Allora, vi ringrazio, sono molto felice, contenta ed emozionata, dopo tanto tempo che posso condividere con la mia famiglia, un ritorno alla musica, delle emozioni, grazie comunque anche ai colleghi che collaboreranno stasera, molto bello e emozionato. Che cosa ci suonerai stasera? Stasera, insieme ai altri due maestri, suoneremo brani famosissimi come Caruso di Lucio Dalla, A Positano, a Positano, a Positano, a Positano, e tanti altri brani. E non ci resta che invitare tutti a venire stasera, è stata una bellissima esperienza conoscerti e vedere il tuo sorriso di felicità, soprattutto a esibirti dopo tanto tempo, vero? Come l'hai passato questo periodo del Covid, come è stato? Abbastanza difficile, suonavi a casa, che facevi? Studiavo a casa, mantenevo sempre in contatto con amici, colleghi, ci siamo sentiti anche virtualmente e non ho mai smesso di suonare. Quella è stata, insomma, la salvezza. Ebbè ragazzi, bocca a lui!